Stiamo per andare a Padova a vedere la Cappella degli Scrutenni. Padova, come vedete, si trova nel Veneto. Andiamo a vedere la nostra cartina dell'Italia. Visto che bella, qui abbiamo un po' di foto delle Cappelle degli Scrutenni. Andiamo a vedere altre foto. Questa è una missione esterna della Cappella. Qui abbiamo una foto sempre esterna. Entriamo dentro la Cappella degli Scrutenni. La Cappella degli Scrutenni è famosa per gli affreschi di Giotto. La Cappella è stata fatta da Enrico degli Scrutenni, che era un importante banchiere di Padova. Faceva parte della sua abitazione. Era una Cappella privata. Nell'Ottocento è stata acquistata dal Comune di Padova. Stava per cadere in disgrazia, come il palazzo di Enrico degli Scrutenni. Dopo l'acquisto dal Comune di Padova, si fanno dei lavori di restauro e viene ridata bellezza a questo Cappalavoro 18. Perciò per la Cappella degli Scrutenni. Grazie a tutti.